Musica 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 In compagnia di Antonio Frappola un baby campione napoletano impegnato nel CIV anche tu alla U-Biker Sì, mi piace la U-Biker ci sono molti abbigliamenti per il motociclismo e invito tutti a venire a questo splendido locale Tu quest'anno in quale categoria gareggerai? Ovale 160 Con quale spirito? Cercare di vincere il campionato italiano In bocca al lupo Musica 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 U-Biker è sempre di più il punto di riferimento dei motociclisti qui a Napoli Sicuramente sempre è sempre importante partecipare a queste manifestazioni che fa la proprietaria che fa sempre non è la prima volta quest'anno organizzato la tombolata ma ci sono altre manifestazioni in passato che abbiamo fatto U-Biker perché è il punto di riferimento secondo lei? Perché innanzitutto il personale è altamente qualificato oltre che competente nel settore oltre al fatto che comunque c'è una vastità di assortimento come si può vedere enorme quindi sicuramente C'è l'imbarazzo della scelta Sì, di fatti qualsiasi biker arriva al negozio e non va via a mani uvute insomma non rimane scontento ecco Quindi tutti alla U-Biker? Sicuramente sicuramente Musica 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 Grazie a tutti.